E' arrivato il giorno perché qui ogni giorno succede qualcosa, che differenza rispetto a 12 mesi fa quando il luglio era totalmente impoverito nel mercato Juventus con un unico grande acuto che oggi sta mandando ancora la sua onda gravitazionale, anzi forse per la prima volta iniziamo a percepire l'effetto tsunami dell'arrivo di Cristiano Giuntoli in Juventus. Accadde proprio un anno fa, a luglio scorso, accadde che con una Juve sostanzialmente immobile sul mercato fa l'operazione UEA in giugno e non c'è ancora Giuntoli, acquisisce a titolo definitivo Milik e non c'è ancora Giuntoli beh a fine di quella sessione quando siamo ormai a settembre John Elkan si lancia per far capire che non solo sarebbe stato l'anno zero ma che il grande acquisto della Juventus era stato fatto. Cristiano Giuntoli con effetti ancora tutti da vedere in quel momento e tante discussioni durante la stagione fino al clamoroso epilogo anche dell'allontanamento pubblico da parte di Allegri di quello che sarebbe stato di lì a poco investito anche pubblicamente anche banalmente in una relazione agli investitori da parte di Exor cioè proprio non una cosa di poco conto come il deus ex macchina sportivo della Juventus che stava nascendo. Lui qui siano Giuntoli che ci porta a novità tutti i giorni e oggi tocca, dicevo, a Kefran Turam perché ogni giorno succede qualcosa. Domani è già raduno, ovviamente tanti volti si iniziano già a vedere in J-Medical si è intravisto Milik, si sono intravisti Hausen e Rugani, ci sono situazioni legate anche alla spola Next Gen un volto nuovo come Azic, abbiamo anche visto Di Gregorio insomma abbiamo tantissime situazioni ogni giorno da raccontare però oggi raccontiamo Kefran Turam, figlio d'arte ovviamente, fratello d'arte concediamolo assolutamente a Marcus che ha avuto un impatto notevole sull'Inter e sulla Serie A Kefran è un giocatore diverso, è un centrocampista, è un centrocampista box to box ha avuto, come credo accada alla maggioranza dei ragazzi di talento di mutare ruolo nel corso del tempo, da ragazzino, forse da bambino era un attaccante molto prolifico, ha svolto le attività di crescita professionale in quella che viene ritenuta comunque una delle roccaforti assolute della produzione del calcio a livello francese e a questo punto possiamo dirlo anche a livello mondiale cioè il centro di Claire Fontaine, giocava poi nella sua squadra di club nel weekend ma lui ha una formazione fin da bambino a Claire Fontaine ed è una formazione da attaccante che poi retrocede da under 14 a centrocampista viene narrato anche in virtù, cioè non solo per scelta dell'allenatore che ne vedeva la crescita e probabilmente la capacità di sfruttarlo a tutto campo nel cuore del campo considerate le capacità di accelerazione, di muoversi nel traffico e di vincere take, giocare quindi in open play come si dice in gergo lui accettò di buon grado perché, dicevo, narra la leggenda ma mi sembra una leggenda che può avvicinare molto la realtà che in quegli anni il suo idolo era Paul Pogba e in onore e nel tentativo di ripercorrere le orme tecniche di Pogba e gloriose a livello professionale del padre che a Fran inizia a fare il centrocampista viene anche utilizzato da Galtier a Nizza da centrale difensivo a dimostrazione del fatto che forse questo diamante grezzo che quest'anno ha avuto nella passata stagione un po' di alti e bassi così come li ha avuti in Nizza di Farioli ha incominciato anche ad approcciare un calcio più palleggiato che è quello appunto del tecnico italiano adesso è passato all'Ajax e i risultati sono quelli di un nuovo inizio di completamento con un giocatore che è totalmente plasmabile a mio giudizio ancora da un pensatore di singoli profili come Tiago Motta che a volte a Bologna ha sorpreso proprio per il modo di impiegare i giocatori che Fren Turam arriva come una formula considerata un affare anche da operatori di mercato che non hanno a che fare con la Juventus 20 milioni circa più bonus per un giocatore che soltanto 12 mesi fa aveva un prezzo, richieste di mercato e offerte anche che rasentavano i 30-35 milioni di euro è chiaro che per lui non si può navigare a vista la Juventus come è accaduto nell'ultimo anno a Nizza rinuncia per volontà del club e credo anche che possa aver capito papà Lillian che subito c'è un po' rimasto alle Olimpiadi in casa con la Francia probabilmente sarebbe anche stato uno dei vicecapitani però intanto per lui quello che è importante è l'atterraggio su Torino avvenuto questa mattina prestissimo volo privato da Nizza a 7.30 e poi 8.30 a visita al Gmedica l'Iter ci porta alla firma e all'annuncio quinquennale per Kefran Turam che a mio giudizio nonostante la Juventus all'improvviso acceleri nella concreta idea che il silenzio soprattutto di Adriana Rabiot sia già in qualche modo il prodromo della sua risposta la Juve accelera e in dieci giorni porta a termine che stiano giuntoli lui quello che ha preparato da 12 mesi cioè l'affondo su Kefran Turam che era già stato associato alla Juventus anche la scorsa estate come tutti sapete Turam arriva per coprire un vuoto quello di Rabiot a livello tecnico-tattico ci sta per coprirlo nell'undici aspetterei nel senso che oggi ogni giocatore che arriva nuovo lo immaginiamo sempre tra i titolari io credo non ci sia nulla di male immaginare che Kefran possa essere un giocatore che verrà sfruttato nelle turnazioni inizialmente per portarlo ovviamente a massimo regime a essere un giocatore più completo possibile più da Juve possibile in pochi mesi ma ovviamente il DNA non mente da questo punto di vista l'arrivo di Douglas Lewis il fatto che ci siano comunque giocatori che la Juve l'hanno vissuta ne ha gioia e tante volte nei dolori parlo di Locatelli e Fagioli aiuteranno Turam a consolidare questo percorso certo parliamo di un giocatore ambizioso di un giocatore che si sente all'altezza non penso si senta pronto c'è grande curiosità da parte di Tiago Motta per studiarne davvero le caratteristiche e come sfruttarlo certo un giocatore come Kefran Turam a Bologna non ce l'aveva o meglio forse ce l'aveva perché guardando gli europei per esempio l'utilizzo molto assiduo da parte di Tiago Motta a Bologna di Ebischer in tante posizioni con una natura a tutto campo che ha persino stupito fino a renderlo nella crescita avuta in 12 mesi uno dei protagonisti rivelazione degli scorsi campionati europei o meglio degli europei scorsi per la sua Svizzera ebbene da questo punto di vista un impiego da super jolly di centrocampo credo che sia il destino iniziale di Kefran Turam i prossimi movimenti della Juventus sono votati alle uscite la ufficialità di Ken nuovo calciatore della Fiorentina i lavori per portare Nicolussi a un'accessione a titolo definitivo al Venezia che è partito con una corte come dire serrata e credo riuscita nei confronti del centrocampista Valdostano forse col pacchetto Barbieri che però ha offerte esterno che l'anno scorso era Pisa valutabile 4-5 milioni di euro sul mercato che la Juve preferirebbe prestare perché sta crescendo crescendo davvero tanto negli ultimi due anni questo laterale destro potrebbe andare in prestito a Venezia ci sono però delle offerte delle situazioni udinese è un po' tramontato il Bologna perché adesso la storia Calafiori ha lasciato qualche segno indietro anche se non è una colpa né del Bologna né della Juventus se il giocatore da inizio maggio quando poteva passare alla Juventus per una cifra stabilita intorno ai 25-27 milioni ha raddoppiato il suo valore sul mercato internazionale bravo lui intanto la Juve sul difensore attende attende perché non esiste questo tipo di urgenza c'è da sistemare altro ma il mercato è lungo lo sapete in un attimo però si inizia a lavorare e qui arriveranno i giudizi di Tiago sui Sule sui Wea sui Miretti e altri 3 o 4 continuate a seguirci ciao a tutti